Vieni quella busta di plastica? Sì. Dimmi che cosa c'è dentro. È un... un dollaro americano. Dimmi come si chiama. Dimmelo subito. Sì, è un santo. Sì, è un santo. Sì, non mi devi toccare. Sì, è un santo. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Ompipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del peccato. Fuori dalla peste micidiale. Sì, è uno scadio. Legga con me. Legga il corretto. Siamo dalla tua volontà. Non ci sono così. Dacci oggi il nostro padre. Aiuto. Tu. Marnicatturo, maledetto. Cosa vuoi fare con lei? Voglio mangiare le mosche della sua potrefazione. Come sei entrato in lei? Come il seme di suo padre. Sei intelligente. Non blandirmi, scettico. Sono io che ho scelto te. Non c'è niente in cui credere. Ah, quindi non c'è il diavolo e non sei posseduta. Tu mi temi, mortale. Come posso temerti se non esisti? Mi hai comprato un friggere, cioè... Diametro 70 focale da 900, come tu mi hai detto te. Ah, non vedo l'ora di farlo vedere a Patrick. Chi l'è Patrick? Beh, Patrick è... Patrick è il mio ragazzo. Papà, che hai? Codesto Patrick è anche peggio di motorino. Ma dai! E dai, su. Non essere banale. È il figlio di William, il nuovo trapezista. Papà, ti piacerà, vedrai. Giulia! Lutino! Lutico! Lutico! I need to see him. He's in a meeting, my lady. Tell him I need to see him. It's a very important meeting. Tell him this is more important. I'm sorry, lady. You must wait. Wait? Let us go, Giulia. Get! Giulia! You are free from the fuck out here! I will not be done the wrong, my slutty! Giulia, please! Giulia, stop! Stop! Let us see. You will never learn to be the same again, if I don't. Romance is the precursor of seduction. Have you yet tasted a woman? I assure you, Lucrezia's ready to become one. And the desires of others is the key to learning their weaknesses. Like Lucrezia. That sad, conflicted girl. Sad. May we all be as satisfied. His Holiness will not allow her to remain in the convent of San Sisto because he wants to secure her. He will. I have convinced him the nunnery is the best place for the girl. I have convinced him the nunnery is the best place for the girl. Well, you know what? And the woman who is who she is for the girl. I am on the one's for the next floor. I am a beautiful way, and I can be a friend of my life. I am obsessed with her. And I want to be a friend of mine.